Leggi più chiare e maggiore difesa dei creditori. Sono questi i due spunti che emergono dal convegno dedicato al diritto fallimentare organizzato ai teatini, dall'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Commercialisti e il Collegio Notarile di Piacenza con il patrocinio del Tribunale. In questa materia, in questo argomento, nessuno può andare avanti da solo. C'è la collaborazione di tutti gli operatori indispensabile e soprattutto i magistrati perché noi possiamo raccontare un po' quello che vogliamo e poi tutto deve passare al vaglio della magistratura. Quindi questo è proprio un tentativo, una dimostrazione di cercare di trovare soluzioni in qualche modo condivise o quantomeno di proporre effettivamente i veri problemi che a volte possono anche essere nascosti. Al di là delle questioni societarie, le recenti disposizioni normative e come è strutturato oggi proprio il sistema, tutelano adeguatamente i creditori? Il creditore è difficilmente tutelato. Io le dico, la mia impressione è che tutta la normativa non è fatta in questo momento per tutelare il creditore, ma soprattutto per tutelare l'azienda. Cioè l'ultima modifica sono fatta per consentire, laddove possibile, di mantenere in vita l'azienda e tutelare i posti di lavoro. Questa è la mia impressione, ma la mia impressione è di notaio e non di aziendalista. Se dovesse emergere un messaggio da queste due giorni, quale sarebbe magari rivolto proprio alla politica al legislatore? Il legislatore dovrebbe fare chiarezza sulle norme. Forse le norme dovrebbero essere scritte da tecnici, perché come avete sentito nel dibattito sono estremamente criticate e anche poco chiare. Il convegno riprenderà domani mattina alle 9.30 e si concluderà attorno alle 13.00.